Andrea Maio, se il portiere è quello che vi salva e che può salvare le partite, anche chi deve fare gol ovviamente è altrettanto. Tu hai la figura dell'attaccante, la Serie D non è facile. No, questa è la mia prima esperienza in Serie D e ho fatto un'eccellenza l'anno scorso, è andata abbastanza bene e speriamo che quest'anno può andare bene. Come hai iniziato? Chi ti ha spinto? Ho iniziato tutto per mia scelta, è stata una scelta mia, certo mio padre guardava sempre partite di calcio e cose del genere, mi ha influenzato un po' però la scelta è stata solo mia. Quanti anni hai? Faccio 18 a ottobre. È più facile attaccare in campo gli avversari e fare gol o attaccare una ragazza e rimorchiarlo? Sono due cose diverse, tutti e due hanno tante difficoltà.